Se nei precedenti filmati abbiamo visto come impiegare l'iPad per gestire e controllare le diverse funzioni di Logic, in questo filmato vi mostro come sia possibile utilizzare un'app musicale, come un synth, direttamente da Logic come se fosse un modulo sonoro esterno. È una gestione senza dubbio interessante, tuttavia si deve tenere conto che determinate applicazioni sono disponibili anche come audio unit, dunque installabili direttamente in Logic e riconosciute come virtual instrument. Il tutto avviene via MIDI e le soluzioni sono sostanzialmente due, attraverso un collegamento fisico tramite interfaccia apposta, quali ad esempio l'iRig MIDI dell'iK Multimedia o similari, oppure sfruttando il collegamento Wi-Fi, che come per il Logic Remote deve essere configurato sempre sulla stessa rete del computer in cui abbiamo Logic Pro X. Vediamo quest'ultimo collegamento poiché è accessibile a tutti anche senza l'acquisto di un dispositivo MIDI. Ovviamente abbiamo a che fare con un po' di latenza, ma spesso trascurabile. Per configurare e far riconoscere la porta MIDI dell'iPad al computer è necessario avviare un'app musicale che possa gestire il MIDI, ad esempio questa in versione gratuita. Fatto ciò, si deve andare nella finestra delle applicazioni del Mac, cartella Utility e aprire Configurazione MIDI audio. Qualora non fosse già visibile, si deve aprire la finestra MIDI. Ora si deve fare doppio clic sul network. Come vedete l'iPad viene visto correttamente. Per connetterlo al computer si deve innanzitutto creare una sessione, utilizzando il pulsante più, e attivarla. Fatto ciò, basta selezionare l'iPad e premere il pulsante connetti. Se il collegamento Wi-Fi è corretto, l'iPad appare in questa finestra di monitoring. Perfetto, il collegamento è andato a buon fine. Il passaggio successivo è crearsi una traccia in Logic. Ne creiamo due. Una Software Instrument ed una External MIDI. Per il momento selezioniamo quella External MIDI e dal Track Inspector, nel menu Port, scegliamo Network Sessione 1. Così facendo, la traccia MIDI invierà i messaggi eventualmente presenti nelle regioni MIDI all'iPad e non ad altri moduli sonori esterni, anch'essi collegati via MIDI. Se ora utilizziamo la tastiera virtuale del piano roll, l'iPad riceve i messaggi MIDI ed emette il suono. Come vedete è molto semplice. In questo momento il suono viene emesso direttamente dagli altoparlanti dell'iPad, ma come vedremo tra poco, collegando l'uscita cuffie alla scheda audio del computer, il suono potrà essere convogliato in Logic. In che modo le app gestiscono il MIDI dipende da come sono state programmate. Dunque, conviene sempre controllare le configurazioni. Qui ad esempio si possono gestire anche i cambi di suono con i Program Change e si può decidere anche il canale MIDI. Se infatti da Logic inviamo un messaggio di cambio suono, l'app carica suono adeguato. Non male. Passiamo alla traccia Instrument. Ma prima è opportuno collegare l'uscita cuffie dell'iPad alla scheda audio, con un cavo stereo adeguato. Perfetto, ora sulla traccia Instrument apriamo il modulo External Instrument, che si dovrà configurare. Come MIDI Destination scelgo la solita sessione Network. MIDI Channel lo lascia impostato su All. E come input audio scelgo gli ingressi a cui ho collegato l'uscita cuffie dell'iPad, che nel mio caso sono la coppia 17-18. È tutto pronto. Carico un'altra app. E sentiamo. Cambiamo di nuovo app. È davvero molto interessante e, avendo a disposizione anche un iPhone, si potrebbe gestire anche il segnale di quest'ultimo, contemporaneamente. Vi ricordo che l'utilizzo della traccia Instrument, a differenza della traccia External MIDI, permette di processare il suono proveniente dall'iPad utilizzando tutti i plugins audio a disposizione. Davvero una gestione professionale. Prima di passare al prossimo filmato, guardiamo il menu Setup di questo strumento, per capire quali possono essere le diverse possibilità che si possono incontrare in queste tipologie di app. Nella sezione MIDI-in, come vedete, appare il Network Sessione 1. Se imposto Off, da Logic non sarà più possibile comandare il Moog. Qui vi è anche la possibilità di indicare quale canale MIDI usare per ricevere messaggi MIDI. Omni riceve da tutti e 16 canali MIDI. La sezione MIDI Out è molto simile. Se anziché Off si impostasse il Network, si potrebbero registrare le esecuzioni fatte con la tastiera del Moog direttamente in Logic. In questo caso però è un'implementazione a pagamento. Come vedete l'iPad è diventato uno strumento professionale a tutti gli effetti e personalmente lo trovo molto creativo.